Hai visto come ti sei ridotto vero? Io te l'ho già detto e ora che cominci a pensare al futuro non è che a 40 anni mi puoi fare ancora le quattro in discoteca, da oggi niente più alcol, stop ai grassi saturi, vita sana e a questo punto ti consiglio anche una bella assicurazione. Assicurazione di che? Guarda che non devi pensarla solo come un costo, ad esempio che ne so il cane mi fa cascare la nonna? Oppure prende fuoco casa? Invalidità permanente? Decesso improvviso? Ma che stai a dire? Ma mi hai visto? Costo fisico d'acciaio? Forever young, in giro ancora mi chiedono i documenti. Eccolo là, adenoidite cronica, la salute è importante. E appunto, dai su che se mi reggi altri 40 minuti, forse, troviamo la filiale ancora aperta.